Buonasera, perché siamo con loro? Dove siamo? Cosa facciamo? Dopo la sigla. Non siete preparati? Dopo la sigla! Allora, oggi sono venuti Claudio e Giuseppe a darci una mano nelle ultime fasi del trasloco o meglio, le ultime fasi di discesa da sopra quarto piano a sotto terzo piano. Adesso la casa del quarto piano non ci puoi fare più niente se non andare al gabinetto. Nella casa al terzo piano ci puoi fare tutto dal gabinetto. No, non ci puoi fare niente perché il bagno che doveva essere montato in tre giorni invece se l'è presa comoda. Se l'è presa molto comoda, quindi ci sono divano impacchettato, i mobili impacchettati, una tragedia. Insomma, siamo accampati. V di chi siamo proprio zincari. Questa è la situazione. C'è il tubo fecale per fare la cacca. Ti senti direttamente il trucco e poi ti succhia immediatamente e finisce lì. E adesso andiamo a vedere... E se rimani incastrato. E adesso andiamo a comprare un'aspirapolvere. Procediamo. Dopo che abbiamo comprato l'aspirapolvere, quella in offerta sottoposto, ci troviamo nel nuovo Fonte del Corallo di Livorno, nel senso è vecchio, ma è stato tutto revampizzato. Molto carino, molto carino, guardate questo è un fiocco. Ora passiamo a metà il fiocco. E chi prende il fiocco vince un giro gratis. Che cos'era questa cosa? Il calcio in culo. Il drago cinese. Il drago cinese. Procediamo. E non c'è più. Ma perché le grandi esce ancora? Oh mio Dio, non ho mai visto i miei video di punta. Procediamo. Ah, eccolo, il tuo kuroshima, l'ho passato qua. Adesso mi devo farlo girare. Siamo reso conto, abbiamo vinto al gratis e vinci. Come le armi. Io 12 euro, signori e signori. Io 5. Ma non ce l'avevi altre 10? No. Ma quello di oggi, stamattina, stamattina a 15. Ah, vabbè, non è giusto. È morto. È certo, ma chi va piano va sano e va lontano. A 5.1 alla volta. Esattamente. Ma ora cosa farete nel vostro sabato sera senza di noi? Sarà un po' noioso. Molto. Guarda che... Per non mandare a salutare un'amica. Questa cosa è in diretta mondiale. Oddio. E vabbè. E si stanno guardando. E chi se ne frega. Lo sanno. Ok. Vabbè. No, comunque devo dire una cosa. Adesso si sta avvicinando Natale. Sì. Mi raccomando, non regalate animali se sapete che non potete tenerli. Un cucciolo se si regala è per tutta la vita. Il cucciolo diventa grande. Tutta la vita. 15 anni. Sì, ho capito. 15 anni è un pezzo di vita. Perché poi la gente vuole il cucciolo. Poi quando diventa grande lo vuole smammare e lo abbandona. Non si fa. Non regalate animali se non avete la coscienza. Esatto. Va bene. Con questi sentimenti. Veramente. Ah no, è vero. È una cosa profonda. Lo sai di qualcosa? L'udienza è tolta. Va bene, ci vediamo più tardi. Perché il nostro sabato sera continua in qualche maniera. Non sappiamo ancora come, ma succederà. Magari qualcuno potrà commentare sotto questo video come finisce il film. Oh Gesù, sto spoiler. Me lo voglio andare a vedere. 8 euro buttate nella monnetta. Ho dormito, ho due coglioni così. Con questi sentimenti procediamo. Dici ciao. Ciao. Guardate la nostra casa come vuota. Facciamo un giro. Non ci sono più i quadri. Ci sarà solamente la roba della signora che aveva lasciato qui. Oddio, che significa che non è proprio vuota. Ma questa è un ultimo. Forse probabilmente un ultimo video da questa casa. Guardate. Non c'è più niente. È una casa che ci ha fatto abitare per quanti anni, Rosario? Dieci? Dieci anni. La cucina c'è sempre tutta. C'è però dentro i mobili non ci sta niente. Andiamo a vedere. Non ci sta più neanche un quadro. Non c'è neanche più il nostro quadro degli Stati Uniti, del nostro piatto di notte. Non c'è più niente. Zero completo. Guardate la stanza da letto. Solamente. Buh. Con niente. Vuota. Vuota completamente. Tutto vuoto. Cosa è rimasto nella stanzetta? A parte i mobili. La tigre. La madonna. Eh sì. Le donnine nude che sono qui da secoli e secoli. Amen. E che hanno fatto da sfondo anche a tutti i video di matematica. Che la gente dice ma questo che fa? Ma non erano miei. Questo è il problema. Andiamo avanti. Ho acceso tutte le luci. No. Non tuttissime. Eh questo è quanto. Guardate la faccia di Rosario. Adesolazio. Sì. E perché siamo ancora qua? E non siamo giù. Cosa che faccio? Perché siamo ancora qua? Perché stanno facendo i lavori. E giù che c'è sta? Ma c'è il... Resino. Un macello mondiale. Guarda che questa luce è oscena e mi fa ancora più bursato di quello che non sono. Guardate. Mettila. Guardate. Stacca. Le occhiaie e i capelli bianchi. Guardate. Procediamo. Adesso ci vediamo. This is us. Tra una cosa e l'altra stiamo al cinema avvedendo a cena col dentro. Avvedendo. 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 Lui l'ha già capito. Io vorrei capire. Si è ucciso. L'hanno ucciso. Hanno scambiato le medicine. Scambiato e riscambiato le medicine. Perché? Secondo Claudio era tutto scontato. Ma non so. Che vuoi? Che ti serve? Niente. Volevo evitare che si riprenda. In ogni caso. Va bene. Questa è la situazione. Boh. Si è fatto anche l'acquisto folle stasera. Oh. Folle follissimo. Fra un poco avremo. No. Fra un poco. Appena li carichiamo abbiamo i nuovi cellulari. iPhone 11 Pro Max. Uno schermo televisivo. Va bene. 256 gigabyte. Praticamente cosa ci dovremmo archivare là dentro non lo so. Tanto si riempiranno anche loro nel giro di due anni. Già lo so. Procediamo a parlare di buona visione. Evoluzione. Siamo nella casa nuova. Facciamo vedere in che stato siamo. Sembra un accampamento di profughi. Accampamento di profughi. Questo è il nuovo salotto di Bano. Nuovo. Questi sono i pietti del gabinetto. Questo è il mobile con già tutta la roba dentro. Il tavolo con... Oh mio Dio. I piatti di la nonna ancora qui sono. Eccetera eccetera. Nuova lampada. Muro con dei brillantini. Ok. Procediamo. Andiamo a vedere la cucina. Che è di cuvada. Questa è la cucina. Questa è la scarpina. Deve andare via subito. Speriamo che se la vengano a prendere. E procediamo. E dai. Questo è lo sgabuzzino. Va bene. Anche qua dobbiamo mettere le mensole. Tutti restano presi. C'è un macello allucinato. Andiamo avanti. Il pezzo forte ancora è tutti i lavori in corso. Francesco. Il bagno è tutto scassato. Completamente. Cioè non c'è niente. Se vuoi andare in bagno devi sederti lì. Cioè la colonna facale che è senza niente. Però la doccia è stata fatta. Ci mettono un secolo. Va bene. Procediamo. L'unico pezzo alquanto che va è la camera da letto. Ed è macellata perché ci siamo già noi dentro. E quindi c'è un attimo di così. Però come vedete funziona. C'è tutto. Ok. Oddio. Lo scaletto non serve a niente. Quella sedia no. Ci sarà una poltroncina. Ma con calma. E poi ultima ma non ultima la luce tra cimitero e lo studio stanza ospiti che però è ancora anche questa un po' così e quindi e che vi devo dire diciamo che su non c'è più niente giù c'è tutto ma quello che c'è tutto qui ovviamente ci sono i pezzi del gabinetto qui che devono essere che giustamente nello studio ci stanno e vabbè che devono essere emessi al loro posto. Con questi sentimenti. L'udienza è tolta. E dal cesso della casa nuova buona settimana. Ok. Abbiamo rimesso tutti i quadri. Tutto. Ho fatto certi per tutti. Ingrinno. Non ci va il nostro quadro che andrà messo da un'altra parte. Non so dove. Vabbè. Con questi sentimenti arrivederci. E basta. Anche per questa settimana il video è finito. Da Livorno è tutto. Ci vediamo. Torniamo a Milano. Ciao, ciao, ciao. Sigla.